Re Carlo III indosserà una faccia coraggiosa per assicurarsi di potersi riconciliare con il principe Ferri e la sua famiglia, ha affermato un esperto di pubbliche relazioni. Secondo un esperto di pubbliche relazioni, il re Carlo utilizzerà i suoi anni di esperienza diplomatica, per garantire un accordo di pace con il principe Ferri e Meghan Markle. La relazione di sua maestà con il figlio più giovane e la nuora, è stata tesa da quando la coppia ha annunciato l'intenzione di dimettersi dai loro ruoli reali. Dopo anni di freddezza e ripetuti attacchi da parte del duca e della duchessa di Sussex, fonti vicine al re continuano a sostenere che è pronto ad accogliere Ferri e Meghan in famiglia. L'esperto di gestione della reputazione Eddie Coram James, ha dichiarato al Daily Express che il re probabilmente utilizzerà un livello di diplomazia senza eguali per riconciliarsi con la coppia. Ha detto, i reali sono molto, molto bravi nelle relazioni con i media, nelle pubbliche relazioni e nella diplomazia. Si incontrano costantemente con individui e rappresentanti che preferirebbero di gran lunga non incontrare, e sono forse i migliori al mondo nel mostrare una faccia coraggiosa e nel partecipare a tali incontri con grazia, facendo sentire quella persona come se fosse l'unica persona al mondo. Il mondo con cui vorrebbero sedersi. Sì, questo sarà un grande test per lo spessore di quella pelle. Invece di incontrare dittatori o presidenti rozzi, che possono essere sopportati con la premessa che è loro dovere, con Ferri è personale. Ma mi aspetto che siano in grado di mettere a frutto il loro ineguagliabile livello di esperienza in diplomazia, quando si tratta di gestire qualsiasi potenziale. Coram James ha anche suggerito che le recenti accuse fatte nel libro Endgame di Omid Skobje, sebbene non siano utili al processo di pace, non potrebbero influenzare l'impegno del re e a riconciliarsi con suo figlio.